Un milione di euro da investire nell'ospedale Cosma e Damiano Di Pescia. L'annuncio è arrivato direttamente dal commissario dell'azienda sanitaria dell'Area Vasta, centro di cui fa parte anche la provincia di Pistoia, Paolo Morello Marchese, alla conferenza dei sindaci della Val di Nievole, che si è tenuta a Ponte Bugianese. Il progetto prevede un investimento iniziale di 30.000 euro e successivamente ulteriori 950.000, per realizzare una sala parto operativa adiacente alle sale travaglio e parto, che dovrebbe quindi trasformare completamente l'attuale reparto di ostetricia. Morello ha spiegato che gli investimenti sono finalizzati a garantire e a mantenere pienamente funzionale uno dei punti nascita più attivi della Toscana, dove nel 2014 sono nati oltre mille bambini. I lavori inizieranno a metà settembre. Nella prima fase, come previsto dal progetto realizzato dall'area tecnica aziendale, saranno svolti interventi straordinari al reparto di Week Surgery, destinata ad accogliere provvisoriamente i posti letto della maternità, in modo da consentire l'effettuazione dei lavori nella sede effettiva. La realizzazione del progetto di ristrutturazione complessivo del reparto maternità avverrà all'inizio del prossimo anno. Non ci sarà alcuna ripercussione sull'attività ospedaliera di chirurgia ostetricia, assicura l'ASL attraverso la direttrice sanitaria Elisabetta Cortesi. Un investimento, ha sottolineato lo stesso commissario Morelli, che dimostra la volontà di mantenere pienamente efficiente e rispondente alle attuali normative in materia di accreditamento, l'ospedale di Pescia.